Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Preoccupa il messaggio postato da Michela Murgia in questi minuti. Lei non sta bene e ha preso una triste decisione. Ecco cosa ha comunicato poco fa. Il suo messaggio ufficiale è stato pubblicato da lei stessa, sul suo profilo Instagram. Come potete osservare, è seguita da tantissimi fan, ha infatti 470.000 follower. Ha da poco pubblicato un nuovo libro dal titolo, Tre ciotole. Come ricorderete, poco più di un mese fa, la scrittrice e attivista aveva detto al pubblico della sua malattia. Un cancro al quarto stadio con metastasi già ai polmoni, alle ossa, al cervello. Da allora l'attivista ha condiviso alcuni momenti della sua malattia e raccontato di se stessa a cuore aperto. Ad esempio ha ripreso e condiviso con i suoi follower il momento in cui si è rasata i capelli. In questi minuti, la scrittrice, ha dato ai suoi fan una triste notizia. Michela Murgia fermerà le uscite pubbliche. Lo ha annunciato la stessa scrittrice nelle sue storie di Instagram, scrivendo. «Sto tornando a casa da quella che era l'ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi», ha scritto nelle stories, dopo aver partecipato all'incontro su Fernanda Pivano, a Torino, nell'ambito dell'evento Archivissima, il festival dedicato alla promozione dei patrimoni e delle storie conservate negli archivi storici. Poi ha aggiunto «Grazie degli inviti che mi state facendo. Non ho le forze né il tempo per accettarli. Il mio prossimo tempo è per chi amo. Non farò neanche presentazioni di tre ciotole. Il suo ultimo libro ha concluso». Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.